Ciao ragazzi sono Chris e benvenuti nel mio garage. Oggi parliamo di Deco. Questo è un troppo navitatore ma ve lo faccio conoscere fra 30 secondi. Essendo la prima volta che nel canale troviamo questo brand vi voglio fare una piccola premessa. 30 secondi precisi. Ho cercato di capire un po' chi è Deco. Alla voce chi siamo del sito c'è tutta la storia del marchio. Io ho letto solo le prime due righe, le ultime due righe e ve le dico a voi. Praticamente Deco nasce nel 2013 quindi è un brand già abbastanza collaudato da un ex dipendente Bosch che si è licenziato e ha deciso di mettersi in proprio. Va bene tutta la bella storia fino ad oggi ma quello che a me interessa e quello penso che serve a voi è sapere che poi quando andate alla pagina dei prodotti vedete che Deco ha già una linea di prodotti veramente veramente vasta divisa per categoria. Utensili a filo, utensili a batteria 12V, utensili a batteria 20V con motore normale a spazzole e utensili a batteria 20V con motore brushless oltre che gli utensili manuali. Ad ogni linea è associato una colorazione di prodotto. Ora non mi ricordo la linea a filo che colore ha però se non sbaglio la linea con motore a spazzole è gialla. La linea con concludere quello che è importante è che se andate a vedere proprio la linea di prodotti è veramente completa ce ne sono tantissimi tantissimi vi perdete a navigare nel sito e questa è una cosa buona perché se uno vuole iniziare una linea di utensili sfruttando la compatibilità delle batterie tra di loro sa di poter contare su un brand dove ci sono tantissimi utensili e non rischia di trovarsi nelle condizioni di dover comprare l'utensile di un altro brand e di trovarsi poi con doppie batterie, doppi caricabatterie. Va bene, basta, finita premessa. Oggi parliamo di questo trapano avvitatore della Deco, motore brushless e il modello... sto diventando vecchio... DKBL20DU3 e come vedete è molto piccolino e ha ben 42 Nm. Viene venduto in kit. All'interno di questa valigetta dove troviamo due batterie 20V da 1.5Ah carica batterie naturalmente e una serie di minuterie, una serie di accessori. La reputo sempre irrilevante perché sono dei consumabili alla fine però ce l'abbiamo ad un prezzo intorno ai 60€. Questi prodotti, questo trapano, lo troviamo all'interno del sito ufficiale naturalmente a decotools.com dove è possibile anche comprare sia il trapano che ulteriori batterie anche da 2A e 4A. Lo troviamo su Amazon e Aliexpress. Vi metterò in descrizione i link per acquistarlo. Se decidete di acquistarlo scegliete voi la piattaforma preferita e se Deco mi dovesse fornire un codice sconto ve lo metterò tra parentesi. Questo è il modello senza percussione quindi 42 Nm di coppia senza percussione. Va bene, avviciniamo la telecamera e vediamolo da vicino. Allora prima di parlare del trapano, mettiamolo un po' da parte, arriva in questa simpatica valigetta. La valigetta devo dire che è leggera, effettivamente è leggera, è molto leggera però è rinforzata grazie alla struttura interna che crea un po' di solidità in più. All'interno della valigetta troviamo il nostro trapano avvitatore con una batteria da 1.5Ah già inserita, una batteria supplementare e il carica batterie, classico carica batterie, diciamo dei prodotti per l'utilizzo hobbistico. Non abbiamo per il momento un caricabatterie da banco, infatti per caricare la nostra batteria noi dobbiamo collegare il nostro caricabatterie da 1.5Ah all'interno di questo connettore qua. 1.5Ah, 1.5Ah, per ora, in teoria in un'ora si dovrebbe completare la carica. Non c'è spazio per nient'altro qua, quindi anche volendo un'altra batteria non la possiamo mettere e non possiamo mettere nemmeno la batteria da 2Ah o da 4Ah che sono proprio grosse. All'interno della confezione troviamo una serie di accessori, abbiamo 6 bit, un adattatore per bit e una serie di punte, sono 1, 2, 3, 4, 5 e 6 punte. Ripeto, io questi qua è giusto elencarli ma io non li considero mai, anche perché in genere la qualità di questi accessori non è eccezionale, però ora poi la vedremo nel dettaglio per capire come sono questi qua e se possiamo comunque utilizzarli. All'interno manuale di istruzioni, scritto solo in inglese, dove spiega le 4 funzioni che troviamo comunque in tutti gli avvitatori e le caratteristiche tecniche. Vediamo le caratteristiche le caratteristiche. Batteria 20 volt, 42 Nm, 2 velocità 0,450, prima velocità 0,170 in seconda velocità. Ha un mantrino, ve lo dico io, con un alloggiamento massimo per punte da 10 mm ed è a serraggio rapido con una mano, non abbiamo la doppia ghiera. Ha 18 click selezionabili nella ghiera per la frizione e pesa 1,350 kg. Allora ragazzi guardate la mia mano, questo trapano è veramente veramente piccolo, con tutta la batteria è alto circa 22 cm e considerando anche il mantrino siamo a 16 cm, 16 cm, veramente piccolino. Vediamo il peso con la batteria, 1 kg e 200 grammi. Allora abbiamo parlato della batteria del caricabatterie, mentre abbiamo visto il contenuto della valigetta. Completiamo il discorso, la batteria ha un'indicazione dello stato di carica su quattro livelli. Abbiamo visto che il connettore dell'alimentatore si collega in questo punto e molti di voi noteranno la somiglianza della slitta con le batterie compatibili Makita. Naturalmente però, essendo questa linea molto curata, in determinati dettagli, questi hanno un codice ID e quindi ho provato a farlo funzionare con altre batterie sempre con la slitta Makita. Non funziona, naturalmente ci vogliono le sue batterie. È da verificare la compatibilità con le batterie originali Makita che attualmente non ne ho e non lo posso provare. Allora il corpo della macchina, come vedete è molto piccolino, tutto quello che vedete di nero è una gomma, è piuttosto rigida, non è proprio morbida morbida, però garantisce un buon grip, soprattutto in questa parte che è bella ruvida. Gomma anche parte posteriore con logo deco. Ha questi simpatici profili blu che sono solo decorativi, sono un po' rientrati e sono di plastica rigida. Così come blu abbiamo il grilletto, il selettore del senso di rotazione e il selettore per la velocità. Allora, senso di rotazione è il normale selettore da spostare a destra e sinistra, posizione centrale, blocco totale del tasto e non ci permette di accendere nemmeno la luce di lavoro. Quando siamo nel senso di rotazione per avvitare o per svitare possiamo azionare il nostro grilletto ed è naturalmente modulabile. Sembra quasi di aver suonato una melodia. Ok, luce di lavoro che rimane accesa per qualche secondo dopo il rilascio del pulsante di avvio del motore. In parte superiore notiamo il selettore per la velocità di rotazione, uno, due, ora poi le vediamo e qui vediamo una ghiera per la coppia di serraggio quando dobbiamo avvitare viti magari sul cruciolato, stiamo avvitando su materiali delicati e poi alla fine l'ultimo click è la coppia di serraggio massimo, 42 Nm, col simbolo della punta di trapano perforare. Il nostro mandrino ha serraggio rapido con una mano, non abbiamo bisogno di aiutarci col motore per stringere e come vi dicevo prima punte massimo da 10 mm. Questa è una 10. Quando arriva a stringere facciamo 3-4 scatti ed è stretto. Ok, anzi qui non ho sentito gli scatti. Allora ragazzi quando è arrivato questo trapano il mandrino non girava benissimo, poi mi sono reso conto che la vita interna era lenta, era quasi completamente lenta, quindi l'ho avvitata, da quel momento gira benissimo. Guardate il centro, non guardate la ghiera che ha sempre un po' di gioco, guardate il pallino nero al centro, proverò a tenere il trapano fermo. Direi che è abbastanza dritto. Anzi vediamo la punta in dotazione com'è. No, questa è storta. Anche questa è storta. Va bene, avete visto ragazzi che piccolo questo mandrino. Cioè veramente molto molto piccolo. Cioè tutto il trapano è piccolo, ma questo mandrino è minuscolo, proprio piccolo piccolo. Dalla parte del loggiamento della batteria c'è un po' di gioco, poco 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 poco, però il fissaggio è stabile. Questo sporge parecchio, anche l'interno è bello profondo. E le guide, sì, le guide sono belle spesse. Alcune volte capita che gli avvitatori economici hanno le guide così sottili che se per qualche motivo noi temiamo il trapano dalla batteria per fare qualche lavoretto, dato che questi non hanno una seconda impugnatura, poi si spaccano di qua. Questo va bene. Ok ragazzi, vediamo questi 450 e 1700 giri. La batteria è carica? No, dobbiamo prendere la batteria carica. Vediamo al contrario. Ok, 420 contro i 450 dichiarati in entrambe le direzioni. Vediamo ora in seconda velocità. Dovrebbe dare 1.700. 1.574. Perfetto. Ok, 1.570 contro 1.700. Direi che ci siamo. Quello scarto che hanno praticamente tutti gli avvitatori. Va bene ragazzi, andiamola a mettere alla prova. Ok ragazzi, andiamoci giù pesante direttamente con la punta più grande che possiamo montare da 10. Quindi velocità 2. Che violenza! Che violenza! è a bete, quindi non è fortissimo, non oppone parecchie resistenze, ma punta Forstner 13 mm. Qua sono costretto però a spingere dalla parte posteriore, fortunatamente non hanno messo prese d'aria di qua. Frizione, ho sbagliato io e non avevo stretto. Allora, riproviamo. Ok, la ghiera questa qua si rischia di toccarla quando si stringe il mandrino perché il mandrino è veramente piccolino. Ok, riproviamo. Stanco, non ci va in protezione. Naturalmente non c'entrà nemmeno con la 1. Ok, a posto. E anche questa è andata. Sì, la ghiera in effetti è molto morbida e si rischia di toccarla manovrando il travano. È piccolina, però è abbastanza morbida. I click non sono molto evidenti. Infatti, guardate, l'ho già spostata. 6x150, senza preforo. È piccolino, cioè è piccolo e potente e questo potrebbe metterci in difficoltà perché se lo impugniamo così andiamo a tappare tutte le prese d'aria. Ok, proviamo. 8% senza preforo. Lo so che si deve fare il preforo ragazzi, però lo voglio mettere un po' in difficoltà, anche perché la beta non è durissimo. Aia! Lo sapevo che mi fregava. Lo sapevo che mi fregava. Troppo potente e troppo piccolino. Sono due pregi che messi insieme possono portare a questo che avete visto. Non avendo la seconda impugnatura la coppia è veramente alta e bisogna stare attenti. Va bene, per svitare è andata sicuramente meglio. Allora ragazzi, quando voglio mettere in difficoltà un trapano, avvito in questo tronco. A questo punto la batteria si è spenta solo una tacca. Ragazzi, ma porca miseria, ma 42 Nm. Magari l'impressione è che ne abbia di più, ma probabilmente solo perché è così piccolo e non si riesce a tenere. Perché alla fine ragazzi è piccolo come un avvitatore da 12V, ora che lo sto vedendo qua sopra. Se ne prendiamo una a caso, cioè è anche più piccolo che un avvitatore, 12V. E se non sbaglio questo è sui 25 Nm. Però il fatto di essere così piccolo rende difficile appunto la gestione di questi 42. Maledetto! Ok, allora, ce l'ho fatta. Protezione. Va in protezione, non riesce a dare l'input per svitare. Perché siamo in velocità 1, figuriamoci velocità 2. E infatti velocità 2 nemmeno parte. Però, dai, che ce la fai! Allora, questa è una cosa bruttissima che ho fatto. Non si fa in genere, si rovinano i trapani così. Però l'ho voluto provare caldissimo. Ok, mentre siamo sul legno, prendiamo di nuovo la bete e testiamo la frizione. Ok, partiamo da 1. Naturalmente velocità 1 per avvitare. Ragazzi, non voglio modulare io col grilletto. Voglio farlo andare fino a quando vedo che si ferma. Facciamo 5. 10. 12. 15. Vediamo. 15. Vabbè, l'ha spaccato perché siamo nel bordo. Però 15 è riuscito a farlo perfettamente a filo. Abbastanza modulabile. Allora, a questo punto abbiamo la batteria tacca rossa e tacca verde. Quindi siamo intorno al 50%. E senza cambiarla andiamo a fare le prove su ferro. Allora ragazzi, 2 mm. L'ho punzonato due volte. Farò due fori da 5 e poi uno di questi lo allargherò a 10. Allora, metto la velocità 2 foratura, anche se sicuramente dovrò modulare per non bruciare la punta. Va bene, senza nessun problema. Allora, questa frizione, guardate, la becco sempre. La inserisco sempre. Veramente è troppo sensibile. Va bene, che dire ragazzi, andiamo a fare le prove su materiali edili. Mentre c'è un po' di batteria. Naturalmente non vado oltre col ferro, perché chi è che si sognerebbe di fare fori più grossi con un trapano delle dimensioni così ridotte. E anche qui punta da 10. Facciamo prima la prova sul forato, anche se non avendo la percussione, diciamo, non è il suo campo ideale. Però ha la velocità e la forza per poterci riuscire in breve tempo. Vediamo. Senza problemi. Ora, senza percussione, il rischio è di bruciare la punta con la velocità. Vediamo cosa riusciamo a fare. Calcio e struzzo abbastanza denso. Naturalmente sto modulando io, perché se vado veloce brucio la punta. Vi faccio vedere. Avete sentito il cigolio, lo stridio? Stavo rovinando la punta. Vediamo, se non l'ho rovinata, vado piano. Che cosa è successo? Mi è esploso in faccia. Ecco perché bisogna utilizzare gli occhiali di sicurezza anche quando si fanno queste prove del piffero. Andiamoci a pulire e poi facciamo le nostre conclusioni. Allora ragazzi, la batteria è ancora intorno al 50%. LED rosso e primo LED giallo. Tutto quello che avete visto è stato fatto con una sala carica. Cioè l'ho caricato prima di iniziare il video e non l'ho caricata. Parliamo prima dei difetti. Anzi, l'unico difetto che mi verrebbe da segnalare è il fatto che la frizione sia veramente molto sensibile. Ma non come coppia di serraggio. Tante volte, involontariamente, l'ho spostata mentre stringevo la punta nel mandrino. Ma il mandrino è molto piccolo ed è per questo che spesso si va a toccare. Questo è l'unico difetto che mi viene in mente. E poi il mandrino piccolo non è un difetto in realtà perché è troppo piccolo il trapano effettivamente per alloggiare punte da 13 anche se effettivamente la potenza ce l'ha. Pregi piccolissimo, leggero e potente. Piccolo e potente, forse l'ho detto già troppe volte, insieme non creano un difetto. Creano un piccolo mostriciattolo che deve essere usato con la testa. Perché come avete visto, farsi male non ci vuole niente. È un buon trapano e lavora bene. E ragazzi che dire, ve lo consiglio. Troverete in descrizione i link per comprarlo e se ho la possibilità di fornirvi un ulteriore sconto lo metterò sotto il link. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al canale e attivate la campanella. Ciao! Ciao!